Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore con l'Inter, signori! E come al solito, come in ogni video, vi ringrazio per il successo, ma soprattutto per il grandissimo supporto che mi date per ogni video di questa serie. Io vi ricordo ragazzi, vi lascio qui un riquadrino con un altro paio di video che ho fatto sempre su FIFA. Uno su FIFA e uno su un altro videogioco. Gradirei tantissimo che voi lo andaste a vedere. So che molti di voi sono iscritti per questa carriera allenatore, ma vi consiglio di andare a vedere anche qualche altro video perché sono sicuro che vi piacerà. Ne approfitto ragazzi per chiedervi anche di seguirmi sui social network, quali Facebook e Instagram. Trovate i link in descrizione perché ogni settimana avete delle novità sulla carriera allenatore. E quindi ragazzi, vi chiedo di seguirmi per essere più collegati tra di noi, così se faccio anche delle domande sui social, tutti voi potete rispondermi. Ne approfitto anche per farvi gli auguri su questo video, magari in ritardo per il Natale, ma comunque auguri ragazzi, auguri. Spero che stiate passando queste festività in mezzo alle persone a cui volete bene, che vi vogliono bene, in felicità a mangiare come dei baghini. E auguri anche per l'anno nuovo. Come al solito saluto una ventina di ragazzi. Oggi saluto Ovvero col campionato. Questa è la classifica ragazzi. Abbiamo tre punti dalla Juventus e quindi dobbiamo assolutamente evitare di sbagliare. Vediamo le partite che andremo a giocarci oggi. Sono Udinese, ottimo match. Lazio e Empoli ragazzi. Nel prossimo episodio vi ricordo Genoa, Sassuolo e finale di Coppa Italia, sempre contro la Lazio. Quindi questa settimana ragazzi abbiamo un primo scontro contro la Lazio che sarà la nostra sfidante in Coppa Italia, scusate, in finale di Coppa Italia. Vi avevo lasciato con una domanda ragazzi, ovvero se accettare o meno la nazionale inglese. Purtroppo ragazzi ho deciso di non accettarla perché in una carriera parallela a questa con l'Inter ho accettato l'Inghilterra, mi è stata proposta precedentemente e non mi è piaciuta per niente ragazzi. L'ho odiata, l'ho odiata, non riuscivo a giocare con l'Inghilterra. Non so per quale assurdo motivo, non riuscivo a trovare gli uomini giusti da mettere nel ruolo giusto e si vede che non fa per me l'Inghilterra. Quindi io ho deciso a malincuore perché in un po' di voi mi avevate detto di accettare a malincuore ho deciso di aspettare o un'offerta dell'Italia o un'offerta di una nazionale maggiore quale Spagna, Brasile, Germania. Anche Francia in realtà sarebbe molto carina da allenare. In ogni caso ragazzi direi che possiamo andarci a giocare la prima partita contro l'Udinese in casa. Ok ragazzi, direi che questa è un'ottima formazione per sfidare l'Udinese e cercare in tutti i modi di non perdere punti contro la Juventus che nel caso perdessimo e la Juventus vincesse verrebbe a pari punti con noi. E noi ovviamente, ovviamente questo non lo vogliamo. In campo come sempre titolare abbiamo il nostro Cialanoglu che lo voglio far crescere assolutamente ragazzi perché io vi giuro che questo diventa un fenomeno. Un fenomeno in tutto. Siamo ritornati qui col campionato italiano signori. Inter Udinese a San Siro sotto la pioggia costantemente una pioggia incessante sopra Milano. Non smette da 4-5 mesi. Pazzesco. Piove sempre. Inquadrato se non sbaglio Duvan Zapata. Ma comunque ragazzi si parte e cerchiamo veramente di fare un bel match. Attenzione di lantane sulla fascia. La mette in mezzo. Dove c'è Brozovic che lascia il pallone. Attenzione a Badu. Poi Miranda con il corpo quando con E aveva colpito fortissimo. Aveva tirato un bel missile con E. Oddio Griezmann. Che palla per Cialanoglu. Cialanoglu davanti a Karnesic. Non sbaglia mai signori. A Cialanoglu. 1-0 Inter. Ma che palla di Antoine Griezmann signori. 1-0 Inter. Un'azione splendida. Credevo di aver sbagliato. Credevo di aver sbagliato qui a lanciare Cialanoglu che si è inserito perfettamente. Ma il lancio di Griezmann ragazzi era veramente perfetto. Sui piedi. Stop di destro. Tiro di sinistro per A Cialanoglu che tra Fidze e Karnesic che poteva fare sicuramente di più. Ma è 1-0 Inter. Griezmann. Un altro pallino fantastico per Riccardi. Riccardi si gira. Il mancino. A giro. La Karnesic stavolta non si fa impensierire. E blocca facile. Riccardi. Lancia Perjic. È più veloce di Vague. Ma arriva Domizzi con un'ottima diagonale. È questo che insegnano ai difensori italiani. Ed è questo che purtroppo quegli stranieri fanno fatica a fare. Ma ottima diagonale qui di Domizzi. Griezmann. Aspetta l'arrivo di Florenzi. Che prova il tiro da fuori. Florenzi. Centralissima. Karnesic non ha problemi. Ci ho voluto provare perché Florenzi ci ha abituato veramente molto bene a queste giocate. Finisce qua il primo tempo ragazzi. 1-0 per l'Inter. Un ottimo gol di Akan Cialanoglu. Un'ottima azione per tutta l'Inter. C'è Fiorentina Juventus ragazzi. E qua si può sperare di allungare nuovamente sulla Juve appunto. Sperando che la Fiorentina riesca a rubargli qualche punticino. Tanto qua l'Udinese attacca con Badu. C'è Di Natale che sbaglia il tocco largo per Guilherme. Chiude Brozovic. Ma adesso l'Udinese è tutta su. Ragazzi faccio un cambio. Vi dico subito perché. Perché voglio preservare un po' Cialanoglu. Metto dentro Jovetic. E poi faccio uscire Kondogbia che mi sta morendo. Mettro dentro Nukuri. Che comunque fa benissimo quel ruolo lì. In mezzo al campo ovviamente. Così preservo un po' i giocatori per questo match contro la Lazio. Comunque in campionato. In cui ho bisogno di tenere tutti sul pezzo. O comunque tutti pronti. Attenzione perché Icardi è un po' defilato. Prova il pallino in mezzo per Persic. Ma chiude bene la difesa dell'Udinese. E poi riparte. Ancora Di Natale. Taziano Duvanzapata. Duvanzapata se ne va. C'è in mezzo Ghierme. Non ci arriva Ghierme. Ottima azione qui di Duvanzapata. Che la mette in mezzo perfettamente. Ma Ghierme è un po' in ritardo. E non riesce ad allungare il piede. Per metterla alle spalle di Nardi. Domestri la mette in mezzo. Dove c'è Duvanzapata che colpisce. Uno pari. Uno pari. Pareggio improvviso dell'Udinese. Ha colpito Duvanzapata da solo praticamente. Fammi rivedere il replay. Madonna ragazzi. Ma che replay è questo? Ma si può mettere un replay del genere? Fammi vedere un altro. Miranda perde completamente Duvanzapata. Che colpisce. Anche Nardi era posizionato male in porta. E quindi c'è il pareggio dell'Udinese inaspettato. Florenzi. Sale tutta l'Inter adesso. Vogliamo il vantaggio. Icardi. Brozovic per Florenzi. Ma esce benissimo. Carnesis. Attenzione perché Carnesis è un mostro coi piedi. Niente. Finisce qua. Uno pari. Pareggio che non ci voleva con l'Udinese. Stavolta abbiamo perso noi punti. Punti preziosissimi. Sperando che anche la Juventus abbia perso qualcosina con la Fiorentina. Se no ci viene veramente a un passo. Ci viene dietro di un punto. Ed è così. Ed è così ragazzi. La Juventus ha vinto con la Fiorentina. Per la precisione 1-0. E adesso non si può sbagliare. E adesso contro la Lazio non si può sbagliare. Facciamo un po' di allenamenti. Adesso io... Ah Tielemans può essere nuovamente allenato. Io direi che andiamo su Tielemans. E attenzione perché se mi ritorna Tielemans in mezzo al campo. Non è più così una passeggiata. Qua facciamo lunare un po' Masuaku. Facciamolo salire anche lui. Il ragazzotto. E facciamo salire anche un po' Nardi. Per cercare di avere un po' la porta barricata. Simuliamo tutto. Speriamo che vadano bene ragazzi. E Felipe Anderson è andato molto bene. Molto bene anche Mauro Riccardi. Ci siamo ragazzi. Preparo la formazione per la partita contro la Lazio. Ok ragazzi. Direi che la formazione titolare è questa. Purtroppo non posso utilizzare Tielemans perché è ancora infortunato. Ma mettiamo Jovet sempre pronto a subentrare. Abbiamo bisogno di tutta la nostra forza d'attacco qui. Per cercare di mantenere la testa della classifica. Un punto solo dalla Juventus ragazzi. Un punto solo dalla Juventus. È veramente poco. Lazio Inter è il momento della verità per i nero azzurri. Riusciranno a mantenere la testa della classifica? O arrivati verso la fine del campionato si faranno superare dalla Juventus? Lo vedremo nella sfida di oggi ragazzi. Lazio Inter. Adesso queste parole sono solo chiacchiere. Dobbiamo cercare di portarci a casa un risultato che deve essere per forza la vittoria. Brozovic. Subito per Celanoglu. Attenzione. Celanoglu. Radu che chiusura. Che chiusura qua di Radu ragazzi. Credevo di riuscire a superarlo in qualche modo con Celanoglu. Riccardi che palla per Kondogbia davanti a Marchetti che non si allunga. Non si è allungato Kondogbia. Porca miseria. Perché non ha fatto la scivolata? Era una bellissima palla quella di Mauro. Griezmann aspetta la sovrapposizione di Florenzi. La mette in mezzo Florenzi dove c'è Kondogbia. Che colpisce malissimo. Leggermente ostacolato. Ma comunque il tiro non era assolutamente dei migliori. E la palla va fuori di molto. Troppo lontano per Celanoglu. La gioca corta Brozovic. 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 Fuori aria il tiro. Stoppato da Maurizio. Maurizio. Come volete voi. Due minuti di recupero intanto. Ma c'è la Lazio che attacca con Kandreva. C'è Miranda che fa ottima guardia. Forse è l'ultima ripartenza dell'Inter qua. Kondogbia. Griezmann. Buona palla per Riccardi. Però è da solo qua Mauro. Deve inventarsi qualcosa. Cosa ha fatto Mauro? Cosa ha fatto Mauro? All'altra parte arriva Perisic. Attenzione Ivan Perisic. Prova a rientrare. Ma basta lo chiude. Non sono riuscito a fare nient'altro. E finisce qui il primo tempo 0-0 per nessuno. 0-0 ovviamente. Stiamo pareggiando. Una partita non molto bella devo dire. Molto tesa. Sono veramente molto teso ragazzi. Perché devo assolutamente vincere. E per il momento non sto facendo bene. Oh. Quante cazzate. Attenzione a Parolo. Che palla per Ravel. Traversa. Poi Miranda. E stiamo addirittura rischiando. Che andreva il tiro. Parolo. 1-0. Il tiro di Parolo ed è 1-0. Ah niente. Sta palla doveva entrare. Sta palla doveva entrare. Il tiro di Parolo. 1-0. Go sul proprio palo di... Preso da Nardi. E adesso è dura ragazzi. Metto ultra offensiva. E non mi interessa se ne prendo un altro. Alcancella Noglu. Dove c'è Mauri Riccardi. Attenzione. Sì. Uno pari. Mauri Riccardi. E stavolta in scivolata ci arriva Maurito. Quello che doveva fare anche prima con Dogbia. Uno pari. Pareggio di Mauri Riccardi signori. Mamma mia che sofferenza. Pochi minuti dopo il gol della Lazio. L'Inter pareggia subito. Quel gran lavoro di Alcancella Noglu. Che trova un pallino perfetto. E stavolta in scivolata Mauri Riccardi. Anticipa Marchetti. E adesso ragazzi non mi interessa. Questa partita dobbiamo andarla a vincere. Miranda. Attenzione. C'è un buco fantastico per Perisic. Perisic. Davanti a Marchetti. Perisic. Centrale. Io veramente non mi capacito come questi tiri possono finire centrali. C'è un buco fantastico per Mauri Riccardi. Attenzione. Mauri Riccardi davanti a Marchetti. Fuori. E' tirato fuori. Non posso crederci. Sei minuti alla fine del match ragazzi. Sei minuti. I miei giocatori stanno veramente morendo. Sono sfatti. Lorenzi. C'è mezzo di Jovetic. Il tiro di Jovetic. De Vrish. Ancora. Non ci credo. Attenzione a Jovetic. Il tiro di Jovetic. Maurizio. Tenisce qui il match. Pareggio dell'Inter. Uno pari. E adesso dobbiamo sperare solamente che la Juventus o abbia pareggiato o abbia perso. Non voglio dire che le speranze di vincere il campionato sono finite. Ma la Juventus ci ha superato ragazzi. La Juventus ci ha superato. E' avanti di un punto. E noi adesso non possiamo fare altro che continuare a vincere. Non possiamo permetterci di perdere altri punti. Io veramente non... Sono incredulo veramente. Purtroppo con i ragazzi ho provato a fare veramente di tutto. Spero solamente che la Juventus perda punti. E tutti quelli che dicevano che sarebbe stato un campionato scontato. Non sono d'accordo. Adesso cambia un po' la formazione. Perché sono un po' scoraggiato ragazzi. Sono sincero. Sono molto scoraggiato. Abbiamo perso punti. Abbiamo perso troppi punti. E adesso si fa dura. Adesso si fa veramente dura ragazzi. Per ripartire da questo match con l'Empoli ragazzi. Assolutamente. Ci sono poche parole da dire. Ci vuole un bel forza Inter ragazzi. Sulla testa. Cerchiamo di riprenderci ciò che deve essere nostro quest'anno. Forza Inter ragazzi. Stiamo qui con la testa. Masuaku. Piovetici. Gnukuri. Aveva fatto un buon movimento Griezmann. Ma Gnukuri non ce l'ha sentita. Ce l'ha sentita adesso con Jovetic. Jovetic per Felipe Anderson. Il tiro di Felipe Anderson. Forza ragazzi. 1-0. Felipe Anderson. Un bel passaggio filtrante per Felipe Anderson. Che scaraventa con tutta la forza in corpo che ha la palla in rete. 1-0 Inter. Forza ragazzi. Griezmann. Che bella palla per Riccardi. Riccardi davanti al portiere. 2-0 Inter. Dopo 24 minuti. E ovviamente quando le cose si sono messe male. Dopo le partite successive riusciamo sempre a giocare al meglio di noi. Qui ottima azione di Griezmann. Ottima imbucata per Mauro Riccardi. Che davanti al portiere questa volta non sbaglia. Mentre quella palla là davanti a Marchetti. Sono ancora qua che ci penso. Attenzione. La palla indietro per Croce. C'è Mainello. Paredes. Mario Rui. Di tacco. Bella parata. Di Nardi. Non ho visto se il pallone sarebbe andato dentro lo stesso. Ma comunque Nardi per sicurezza l'ha smanacciata. Finisce qui il primo tempo. 2-0 per l'Inter. Io ragazzi purtroppo sono ancora molto colpito da quello che è successo poco fa. Ancora un po' incredulo del fatto che mancano tre partite del campionato. E abbiamo perso l'occasione di restare davanti. E la Juventus è sopra di noi di un punto. Jovetic. Griezmann. Bella palla per Inaki Williams. Bella l'azione dell'Inter qui con Inaki Williams. Che la rimette in mezzo. Dove c'è Jovetic. Che firma il 3-0. Ritorna il gol anche Jovetic. Dopo un paio di partiti di digiuno. Bella qui la palla di Inaki Williams. Jovetic in questa occasione non se le fa scappare. E firma il 3-0 per l'Inter. Inaki Williams. Prova il tiro da fuori signori. Inaki Williams. 4-0. Dove probabilmente Skorupski non può arrivare. Come si è liberato qui Inaki Williams. Poi il destro sotto l'incrocio. Qui Skorupski sicuramente poteva fare qualcosa di meglio. Attenzione perché l'Empoli c'è ancora. Buschel si mangia un gol. Un'occasione d'oro davanti a Nardi. Sarebbe stato meglio non sbagliarlo magari questa. Poi Florenzi qua commette un'ingenuità. Scivolata. Poi tocca il pallone di mano. Giustamente l'arbitro fischia. Calcio di rigore. Saponara contro Nardi. Saponara contro Nardi. Un calcio di rigore perfetto. 4-1. Il gol della bandiera dell'Empoli per il momento. Un rigore veramente calciato in maniera perfetta. Niente da fare per Nardi che aveva comunque intuito il lato. Inaki Williams che palla per Palacio. Il tiro di Palacio la parla di Skorupski. Ancora Inaki Williams. In qualche modo riesce a buttarla dentro. Era stato lentissimo Palacio a tirare. Fortunatamente a rapporto. C'era Inaki Williams. Qua Palacio. Qui non ha tirato su. Subito. Poi Inaki Williams da dietro. Si è inserito. E ha firmato la sua doppietta. La sua prima doppietta con la maglia dell'Inter. E ha segnato anche il 5-1. Adesso l'Empoli aspetta solo il fischio finale che arriva. 5-1 per l'Inter. Adesso a noi ci interessa solamente vedere qualche aggiornamento. Delle altre partite. Ma soprattutto ci interessa vedere l'aggiornamento della partita della Juventus. Semuliamo gli allenamenti di questi 5 ragazzi. A parte Griezmann tutti male. Dire proprio di sì. Filippo Anderson si avvicina di molto all'Overall di 81. Adesso andiamo a vedere gli aggiornamenti dai campi. Non ci credo ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Dio vuole lo giugno. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere ragazzi. Siamo sopra. Siamo sopra ragazzi. Siamo sopra. Siamo sopra. Siamo sopra ragazzi. Un dio del calcio esiste. Siamo sopra. Cosa ha combinato la Juventus? Cosa ha combinato la Juventus? Ha pareggiato col Verona. Ha pareggiato col Verona ragazzi. Santo Ellis Verona. Santo Ellis Verona ragazzi. Siamo sopra di un punto. Siamo sopra di un punto. Ma andiamo. Sfonderai tutto. Siamo sopra di un punto ragazzi. Hai esattamente due partite dalla fine del campionato ragazzi. Credevo che tutto fosse perduto con quel pareggio contro la Lazio. Ma invece siamo ancora primi ragazzi. Ma nel prossimo episodio dovremo vincere entrambe. Sia col Genoa sia col Sassuolo. Il santissimo Ellis Verona ha fermato la Juventus. Sono incredulo. Sono veramente incredulo. Comunque ragazzi. Questo episodio è stato un'emozione unica. Veramente ho rischiato di piangere. Sia per il pareggio contro la Lazio. Sia per il pareggio della Juventus contro il Verona. Dai ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Lasciate un mi piace. Un commento. Un consiglio. Vi ricordo. Non perdetevi il prossimo video. Perché ci sarà la fine del campionato. Forza Inter ragazzi. Vi ringrazio come sempre per il supporto. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da mezzo. E al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.